Siamo Paola Furrano e Roberto Beggio ed è con molto piacere che raccogliamo ancora una volta l'invito dell'amico Raimondo Cesa per partecipare a vitamine jazz virtuali per l'ospedale Sant'Anna di Torino e la fondazione a misura di donna. Il brano che eseguiamo è un classico del repertorio jazz e si intitola I can't give you anything but love. Buona ascolta! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!